professore come stai bene grazie tutto tutto a posto tutto bene riconosci questa citazione te la leggo la cucina italiana è stata inventata 50 anni fa dall'industria alimentare e abilmente raccontata dai gastronazionalisti se non ricordo male è una frase del nostro libro la cucina italiana non esiste ecco non ti sbagli dopo dieci anni d'amicizia e circa 70 puntate del nostro podcast noi siamo riusciti a scrivere un libro insieme finalmente intanto ti faccio una domanda come è stato scrivere un libro a quattro mani tu sei abituato a scrivere da solo all'università a casa nel tuo studio invece questa volta ci sei trovato a scrivere con me tra l'altro c'è un problema sai che io scrivo in mutande anche questo problema qui però non è però non è necessario scriverlo fianco a fianco un libro però io scrivo da solo e sono tendenzialmente un lupo solitario però mi sono divertito tanto anche perché poi nel libro ci sono cose che hai scritto tu e quanto meno è suggerito e che a me non sarebbero mai venute in mente quindi è meglio di quello che avrei fatto se l'avessi fatto da solo ma questo è un grande attestato di stima io ti ringrazio e lo prendo questo attestato di stima è stato come una scanzonata tesi universitaria dunque dove scrivevo le cose per quanto mi riguarda ovviamente te le sottoponevo le approfondivamo l'ho trovato molto divertente sono stati mesi impegnativi questo sicuro è stato un lavoraccio no nel senso mi sono divertito però è stato abbastanza complice è lungo difficile perché appunto io butto giù le cose poi come mi vengono vengono e invece nel momento in cui ti devi confrontare con qualcun altro non può funzionare così più che altro abbiamo cercato di trovare tante cose nuove che non fossero già contenute nel podcast e che però riproponessero e proponessero anche in maniera più strutturata inevitabilmente i temi che ci hanno accompagnato e che ci stanno accompagnando in questi anni e secondo me qui bisogna partire un po da lontano perché io tornerei al 2017 alla nascita del tuo primo libro che ormai è un best seller denominazione di origine inventata perché secondo me tutto nasce da lì e ti chiedo di raccontare come è nato quel libro allora non saprei dire bene come è nato però mi ricordo il momento iniziale quando nel tuo ufficio erano nel tuo ufficio io ti ho detto quella frase terrificante che è il vero parmigiano lo fanno nel Wisconsin e tu mi hai detto ma questo è un libro bellissimo io gli ho detto ma no guarda è una frase non è un libro allora ti faccio parlare col mio editor della Mondadori e io ti ho chiesto ma cosa dico all'editor della Mondadori ma di qualcosa inventati qualcosa ed è esattamente quello che ho fatto e dopo qualche settimana un paio di settimane la Mondadori mi ha scritto mi ha detto va bene professore le pubblichiamo il libro col piccolo particolare che il libro non esisteva il libro non esisteva ma esisteva una bellissima scaletta che ricordo dove tu mettevi in fila tutti o tanti tanti prodotti di cui vengono raccontate origini centenarie ma invece hanno un'origine recentissima come in quel libro scrivi ma lo ripetiamo anche qui la cucina italiana ha 50 anni o poco più e in quel libro tu proponevi insomma quello che poi è il cuore del nostro racconto nel podcast cioè ci raccontiamo spesso tante bugie origini appunto centenarie dei nostri prodotti tipici ci raccontiamo che un tempo gli italiani in qualche modo mangiavano più o meno come mangiamo noi oggi ma non è assolutamente così no infatti questo è in fondo il cuore del lavoro degli ultimi 7-8 anni beh tu in realtà l'università ne parlavi già da prima guarda la storia del parmigiano del Wisconsin del famigerato parmesan del Wisconsin che poi ripeti perché non hai detto che tutti la sappiano comunque la storia del parmesan del Wisconsin l'ho ricordata poco tempo fa la prima volta che ne ho parlato è stato in un convegno a Parma perché io sono uno che ama il rischio nel 2009 quindi ormai festeggiamo 15 anni di matrimonio con il parmesan del Wisconsin e quindi no però la storia del parmesan del Wisconsin devo raccontarla adesso eh sì ma secondo me la si può dire in breve perché tu sei stato molto attaccato dicendo che se volessimo assaggiare il parmigiano che mangiavano i nostri nonni non dovremmo mangiare il parmigiano che mangiamo tutti i giorni ma dovremmo andare nel Wisconsin o prendere il parmesan del Wisconsin non dobbiamo andare a Parma dobbiamo andare a Milwaukee esatto perché hai detto questa cosa perché ho raccontato che il parmesan è un formaggio che ha ormai cento anni di storia grosso modo nasce negli anni 20-30 del 900 per opera di casari italiani e i caseifici più antichi quelli che hanno nomi italiani perché ovviamente ci sono anche molti caseifici locali che hanno fondatori americani o addirittura anche tedeschi in alcuni casi perché il Wisconsin è uno stato un po' particolare e questi più antichi hanno prodotto questo formaggio più o meno con gli stessi principi con le stesse tecniche che si utilizzavano all'epoca cento anni fa dalle parti di Parma, Reggio, Mantua, Modena e un pezzettino anche di provincia di Bologna e quindi il parmigiano di cento anni fa lo troviamo più facilmente nel Wisconsin che non a Parma dove negli ultimi 50 anni il prodotto si è evoluto è cambiato tantissimo è migliorato tantissimo io questo non lo metto mai in dubbio quante volte lo dovremmo dire questo? un bel po' di volte fa sempre bene esatto no però è evidente che il parmigiano oggi ha un livello qualitativo medio estremamente elevato nettamente superiore al parmesan però non è così antico è molto cambiato ma poi ci sono anche le foto che ce le fanno vedere il compleanno di Pavarotti del 75 dove il parmigiano aveva ancora la crosta nera assolutamente io sono talmente vecchio che mi ricordo a me piaceva mettere la crosta del parmigiano nel minestrone e mia mamma me lo grattava perché c'aveva questa patina nera io da appassionato di cinema ricordo spesso come il film Il compagno Don Camillo mostri in ben due scene forme di parmigiano di cui Peppone si fa molto vanto ma sono forme appunto con la crosta nera più piccole molto più piccole se non ricordo male ce n'è una dentro una cappelliera quindi proprio una forma molto piccola e appunto questo era il parmigiano negli anni 50-60 ma ancora negli anni 70 aveva queste caratteristiche poi si è evoluto molto ed è diventato questa meraviglia io nel libro dicevo che era come il brutto natroccolo al contrario il parmesan cioè quando nasce è brutto come i suoi fratelli poi i suoi fratelli diventano tutti belli e lui rimane brutto ma insomma noi infatti una cosa che ricordiamo dicendo anche come i nostri prodotti siano generalmente buonissimi è che i nostri prodotti appunto non solo il parmigiano hanno vissuto hanno ricevuto un avanzamento ecco dal punto di vista tecnologico della conservazione del packaging insomma un'evoluzione straordinaria a cui è andata incontro la nostra cucina e i nostri piatti ma questa evoluzione straordinaria non avrebbe potuto esistere in un'Italia senza il frigorifero in un'Italia senza il boom economico che ha enormemente migliorato le nostre condizioni senza un'Italia che ha imparato a consumare dalla fine degli anni 50 con una trasmissione come Carosello che ha insegnato agli italiani un modello consumistico che fino ad allora non c'era ma perché eravamo un'Italia poverissima no ma infatti così fra l'altro posso fare un passo indietro sulla questione del parmigiano e del parmesan cioè perché incontro ci sono tutti i prodotti nuovi che sono quelli appunto successivi al boom economico anche il caso del parmesan che il bel parmigiano che effettivamente ha una storia più antica lo cita Boccaccio ricordiamo il paese di Ben Godi comunque nessuno mette in dubbio che il parmigiano abbia quasi mille anni di storia davvero esatto a parte qualche buchetto qua e là nella sua storia molti buchi esatto però al di là di questo il tema vero però è che nel caso del parmigiano stiamo parlando di un prodotto che ha una lunga storia ma che ha saputo modificarsi nel corso dei secoli adeguandosi alle mutate condizioni tecnologiche dei consumatori i gusti dei consumatori diversa la questione dei prodotti nuovi quindi la nostra cucina è quella cosa lì cioè nel senso è da un lato un po' la capacità ma poca in realtà perché sono pochi questi prodotti che possono vantare una storia così lunga come nel caso del parmigiano reggiano che hanno saputo comunque modificarsi in maniera radicale adeguandosi ai prodotti altri invece sono prodotti inventati di sana pianta a cavallo del boom economico e in alcuni casi anche molto successivi io faccio l'esempio del cioccolato di modica ma di esempi ce ne sono tanti mettiamola così su tanti prodotti nuovi nati col boom economico nati appunto con i frigoriferi penso al tiramisù dolce domestico per eccellenza che senza il frigorifero senza la possibilità di conservare il mascarpone non potrebbe esistere per tanti prodotti si è ritenuto necessario nella narrazione che noi diamo alla nostra cucina attribuire un ingrediente fondamentale la storia sì guarda la storia rassicura perché se tu dici questa cosa si fa da mille anni bene quindi vuol dire che è una cosa importante quindi la storia ha questa funzione è ovviamente uno strumento di marketing perché appunto vendi più facilmente la storia si vende la storia è un oggetto è un prodotto che si mette in vendita quindi questo è assolutamente un altro fattore importante dopodiché da storico il mio mestiere non è quello né di vendere formaggi né di vendere salumi ma possibilmente di raccontare le cose come stanno anche perché insomma io continuo a pensare che sia una mancanza di rispetto nei confronti della nostra storia cioè cosa c'è di più bello e di più forte che non raccontare il fatto che in questo paese in 50 anni ha costruito un mito che tutto il mondo guarda anche con una certa ammirazione e stip cioè nel senso che molti apprezzano la cucina italiana quando invece 50 anni fa il mondo si parlava di cucina diceva ma sì siete quelli che prendono l'acqua metto un po' di sale e ci buttano dentro la pasta sarà mica cucina quella lì questo era un po' più o meno quello che ci dicevano la considerazione che avevamo era questa la cosa quindi la stessa pizza alla fine pomodoro e pane ma c'è una roba e invece adesso abbiamo costruito un mito abbiamo costruito un mito siamo stati in grado di valorizzare un'eccellenza come la pizza napoletana senza dimenticare che in Italia abbiamo tanti tipi di pizze e molti di più ci sono di tipi di pizze ci sono in giro per il mondo anche quella con l'ananas che abbiamo assaggiato anche quella con l'ananas che tu hai assaggiato che io non amo l'ananas ma è un dettaglio è un dettaglio io ho mangiato anche i grilli tu hai assaggiato di tutto ma lo raccontiamo in un'altra puntata in un'altra puntata allora abbiamo citato il boom economico spesso ripetiamo e lo diciamo anche in questo libro che i momenti determinanti per la cucina italiana come la conosciamo oggi ci sono due quello più recente è il boom ma ce n'è uno anche un pochino più indietro nel tempo e sto parlando della grande migrazione degli italiani a partire dal 1870 circa verso le Americhe verso un po' tutto il mondo perché ci siamo andati anche in Francia in Germania e sì chiaramente questo è un momento importante fra l'altro a dirla proprio tutta tutta mi rimetto la giacca no la giacca ce l'hai già ed è un caso ed è un caso è un caso no la questione del quel periodo lì cioè nel 1875 1915 quando scoppia la prima guerra mondiale sono gli emigrati italiani che tengono in piedi l'economia italiana perché questo bisognerebbe anche un po' ricordarlo quei milioni lì le rimesse tengono in piedi la bilancia dei pagamenti italiani non ci sarebbe stata l'Italia i soldi mandati dagli emigranti mandati a casa mandati a casa quindi quella cosa lì cioè quel sacrificio di milioni di italiani che se ne vanno perché hanno fame perché altrimenti stavano qui si mangiavano i maccheroni la pizza diciamolo ancora con maggior chiarezza se gli italiani alla fine dell'ottocento fossero stati bene avessero mangiato la pasta la pizza e le tante ricette di cui ci vantiamo i tanti piatti il brasato non sarebbero emigrati in America no infatti c'è dei amici tra i tanti che lo racconta proprio dicendo intervistando anche coloro che partono dal porto di Genova e dicendo come questa gente parta per fame ma guarda anche questo meriterebbe forse un altro dobbiamo fare un altro di libri vediamo non mettere limiti alla divina provvedenza io non li metto di materiale ne raccogliamo tutti i giorni perché davvero adesso a parte quello che è appena detto che è un dato di fatto c'è anche un'altra questione tutta la cultura italiana un pezzo importante della letteratura italiana di quel periodo è tutta una letteratura della nostalgia di questi che se ne vanno e che sognano tutte le canzoni italiane sono mamma che vanno in America e tornano in dieci è davvero un pezzo fortissimo della nostra identità e intanto che si costruisce l'identità si costruisce anche la cucina questo diciamolo quindi c'è un elemento economico importante questi tengono questi milioni non sappiamo neanche quanti sono tengono in piedi l'economia italiana 15-20 milioni possiamo stimare ovviamente molti tornano e questo è un tema importante per quanto riguarda la costruzione della cucina italiana appunto tengono in piedi l'economia costruiscono l'identità perché guarda questa è un altro di quelle cose l'abbiamo detto nel libro questi non parlano la stessa lingua questi vengono presi buttati a New York o a Rio de Janeiro o a Buenos Aires e tra di loro non riescono a comunicare cioè non solo non parlano l'inglese non parlano l'italiano il 2,5% degli italiani nella seconda metà dell'Ottocento sa parlare l'italiano sa comunicare in italiano e non sono quelli che sono andati oltre oceano e quindi questo è un fatto importante vuol dire che l'identità riconoscersi reciprocamente avviene là il famoso sogno di Dazzeglio abbiamo fatto l'Italia facciamo gli italiani si fa in America perché gli italiani tutti del nord e del sud si riuniscono sono ghettizzati nelle Little Italy e però lì uniscono quelle poche consuetudini alimentari acquisite e le arricchiscono soprattutto con i prodotti di un'America già industrializzata che è in grado di fornire cibi che da noi erano un sogno e lì gli italiani costruiscono la cucina che poi riportano in Italia quando ritornano nel nostro paese in mezzo a tutto questo perché qui ovviamente ci sono ingredienti nuovi che gli italiani scoprono abbiamo trovato i documenti delle autorità locali soprattutto nel nord Italia perché anche questo andrebbe un po' raccontato noi abbiamo un'immagine dell'emigrazione italiana che è quella che ci ha trasmesso Hollywood per cui essendo nord americana è più concentrata nelle regioni del sud Italia come regioni di partenza ma in realtà il 60% degli italiani che vanno in America sono veneti quindi è tutto un altro mondo è tutta un'altra lingua e sicuramente tutta un'altra cucina che non c'è perché la cucina dei veneti non c'è ci sarà dopo ma per il momento non c'è e questi mangiano polenta come ricordiamo spesso un contadino veneto su tre nel 1870 80-80 aveva la pellagra quindi vuol dire che appunto mangiava solo polenta pellagra e rachitismo al nord malaria e tracoma al sud grandi mali che affliggevano gli italiani oltre a questo tutte le malattie da carenza malattie di carenza vitaminica ti ricordi nel 1873 Carlo Maggiorani il medico nel riferire le condizioni di salute degli abitanti del regno descrisse gli italiani come macchine gracili frolle costituzioni frutto della caterva di mali che ammorbano gli abitanti del regno e fra l'altro questo siamo negli anni 70 dell'ottocento ma abbiamo anche le descrizioni delle visite mediche quando scoppia la prima guerra mondiale quando quindi inizia una leva molto più estesa e anche lì ma siamo già nel 15 però siamo ben avanti rispetto a questa cosa e i contadini italiani sono tutti gracili non sanno stare sull'attenti Jaiet ci racconta questo insomma quindi è davvero incredibile questa storia e quindi raccontarsi di questa grande epopea è davvero secondo me io continuo a pensare che sia davvero offensivo nel convolto nella nostra storia io su questo sono abbastanza tranciante dopodiché appunto in America scoprono ingredienti nuovi ci sono le autorità locali che dicono ai contadini veneti che vanno in Argentina attenzione perché lì mangerete carne e voi non siete abituati a mangiare carne quindi contenete siate moderati moderati perché potreste avere dei problemi fisici a mangiare questo tipo di questo ci dà la dimensione di qual era la dieta degli italiani in generale non solo in questo caso veneti ma anche quelli del sud in quegli anni la carne era assolutamente sconosciuta e questo è un altro tema eravamo gli ultimi per consumo di carne in Europa assolutamente eravamo gli ultimi dopo essere stati perché qua ci porteremo troppo lontano ma dillo in 30 secondi 30 secondi nel rinascimento fino al rinascimento diciamo medioevo rinascimento in Italia effettivamente si mangiava più che nel resto d'Europa perché era l'area più sviluppata fondamentalmente dopo in mezzo c'è stato un po' di tutto a parte qualche epidemia di peste qualche guerra quindi alla fine l'Italia perde la sua centralità e soprattutto si trasforma in un'area assolutamente arretrata rispetto al contesto europeo Alberto abbiamo più o meno raccontato come abbiamo lavorato in coppia in realtà non eravamo sempre è capitato di lavorare fianco a fianco ma poi ognuno a casa sua abbiamo scritto una volta in piazza abbiamo fatto abbiamo fatto sì sì anche in piazza con degli appunti però in generale ci siamo dedicati ognuno a un capitolo diverso poi amalgamandolo poi ragionando assieme su ciò che avevamo scritto appunto tu hai fatto il professore appunto segnalando passaggi da rimarcare maggiormente insomma è stato è stato un bel lavoro possiamo dire che siamo ben rodati perché insomma lavorando sul podcast e scrivendo il nostro podcast più o meno tutti i giorni è una puntata alla settimana che può richiedere un impegno variabile dipende dalla puntata mettiamola così tu ti ricordi vero come è nato come è nato il podcast e qual è stata la tua risposta iniziale io mi ricordo quel giorno che tu mi hai chiamato e dopo siamo andati a prendere un caffè insieme a Gabriele Gabriele Beretta il nostro produttore il produttore di Doi esatto mi hai chiamato mi hai detto vieni a prendere un caffè dobbiamo parlare ti andrebbe di fare un podcast sui tuoi temi su denominazione di origine inventata e io ti ho detto sì sì cos'è un podcast è stata la mia risposta e devo dire la verità che continuo a non saperlo bene cioè è un mondo che non domino nella sua complessità però è un mondo molto bello è un mondo molto bello che ci sta dando grande soddisfazione ma io ero tranquillo perché c'eri tu e tu mi sbigli probabilmente anche in questo momento ma insomma il nostro produttore riesce ad aggiustare i volumi ad aggiustare i volumi appunto posso dire anche che rispetto al podcast tu eri più ottimista di me sugli ascolti beh sì tu all'inizio ricordo una tua frase quando dicesti mi accontenterei di 50 ascolti al giorno a me sembrava un po' pochini forse direttore a settimana avevo detto però può essere anche al giorno insomma anche al giorno un po' pochini in realtà devo dire 50 ascolti al giorno li ha fatti la prima settimana poi parlò di noi Lorenzo Biaggiarelli oggi è un amico insomma volammo a 5.000 e poi Francesco Costa 20.000 ascolti al giorno e insomma poi la strada di Doi si incanalò molto bene mi ricordo anche di quel giorno lì quando Francesco Costa parlò di noi che eravamo insieme adesso sempre che siamo a TV locale Telemanto ma noi siamo mantovani e cominciarono a chiamarci dei tutti cosa sta succedendo non lo sapevamo cosa stesse succedendo dopo l'abbiamo scoperto Francesco Costa consigliava di ascoltare Doi dicendo attenzione alle tante narrazioni sulla nostra cucina c'è questo podcast che ci spiega come in realtà i nostri piatti siano molto più recenti di quello che ci viene raccontato e di come certa narrazione vada a filo doppio con un certo nazionalismo il gastronazionalismo di cui tanto parliamo da cui bisogna insomma prendere un po' le distanze sì fra l'altro Francesco Costa in quella segnalazione quella prima segnalazione disse subito una cosa che in qualche modo diede un senso anche nuovo al nostro lavoro cioè disse gli italiani forse ascoltando questo podcast cominceranno ad essere meno antipatici quando parlano di cucina secondo me non ci siamo riusciti perché siamo comunque ancora antipatici però qualcosa forse l'abbiamo un po' aggiustata come innovazione almeno ci abbiamo provato diciamo che le tante persone che hanno ascoltato e stanno ascoltando il podcast e coloro che stanno leggendo il libro in qualche modo sono maggiormente disposti a mettere in discussione appunto le tante bugie lo scriviamo nel sottotitolo che vengono raccontate ma questo non significa infangare quello che siamo anzi noi diciamo lo dicevi prima ma lo ripetiamo eravamo un paese poverissimo abbiamo vissuto un boom economico abbiamo saputo valorizzare i nostri prodotti ci aggiungiamo come ingrediente la storia per nobilitarli ancora di più ma non si mette in discussione la qualità degli ingredienti però la nostra cucina è frutto di contaminazione con altri popoli con le cucine di altri paesi è frutto di evoluzione e ciò che mangiamo oggi non è ciò che mangeremo fra 50 anni basti vedere le ragazze e i ragazzi di oggi che sono molto meno gastronazionalisti di coloro i quali hanno la nostra età e sono molto più propensi a mangiare in un ristorante giapponese o a mangiare il kebab e a sperimentare in generale qui racconto l'aneddoto personale di quando si è laureata una delle mie tante figlie tre se non voglio esagerare e allora c'era da fare la festa c'era da organizzare la festa di Laura io ovviamente da vecchio mantovano andiamo a mangiare i tortelli di zucca le mie figlie non ci hanno minimamente pensato siamo andati al sushi a festeggiare perché e c'erano tutti gli amici ma non è nemmeno stato preso in considerazione l'ipotesi perché evidentemente questi temi che noi sentiamo molto vicini molto dibattuti permette per le nuove giovani generazioni magari c'è anche interesse per appunto la vigilia di Natale Natale i piatti tipici ma poi non c'è questo integralismo e siamo sempre lì cioè quelli che se uno mette la panna nella carbonara c'è qualcuno a Roma che si butta nel Tevere probabilmente c'è anche tanta gente che giustamente dice ma mettici quello che vuoi ti piace così ma metticela chi se ne frega tra l'altro se noi guardiamo anche una delle più importanti trasmissioni televisive dedicate al food e mi riferisco a Masterchef noi vediamo come inevitabilmente tutte le puntate siano dedicate alla contaminazione all'innovazione all'ibridazione con altre cucine e dunque da un lato viviamo questo integralismo degli italiani alla ricerca della fantomatica ricetta originale intoccabile ma dall'altro la sperimentazione è l'infa vitale anche per lo spettacolo della cucina perché se noi in cucina facessimo vedere sempre gli stessi piatti fatti sempre allo stesso modo alla seconda puntata ci saremmo già abbastanza annoiati ho la sensazione che tu stia andando verso la politica perché questo secondo me è proprio un argomento politico il nostro podcast e il nostro libro sono politici perché noi insomma critichiamo un'idea di nazionalismo legata al gastronazionalismo e non solo tanto che in una parte del libro una parte del libro l'abbiamo intitolata l'invenzione della tradizione o la tradizione dell'invenzione in effetti abbiamo ribaltato i termini del famoso testo di Osborne appunto l'invenzione della tradizione però al di là di questo ho la sensazione che ci sia anche in questa enfasi in questo integralismo o appunto se vogliamo usare il termine gastronazionalismo ci sia anche veramente un pezzo di politica che ritiene che questo argomento sia di fondamentale l'importanza però qui andiamo su un campo andiamo su un terreno scivolosissimo però io ci andiamo su questo terreno nel senso perché perché è così importante la cucina oggi per gli italiani la spiegazione che do io che poi è stata la prima reazione quando uscì la famigerata intervista al Financial Times ricordiamo a marzo del 2023 uscì una tua lunga intervista ricordi sempre Barack Obama e quante pagine del Financial Times quando finì il mandato di Barack Obama quattro pagine a me cinque quindi a parlare di Carbonara e di Amatriciana è più importante che essere presidente degli Stati Uniti no non è vero non è vero però appunto la presunta identità degli italiani legata alla cucina era di questo che stavi parlando allora questa intervista poi ha generato una serie di altre ha generato centinaia centinaia di articoli però il Guardian uscì praticamente il giorno dopo analizzando questa intervista e dicendo fondamentalmente e analizzando soprattutto le reazioni che i lettori italiani avevano fatto nei confronti del Financial Times che avevano inondato il sito di insulti di minacce anche di morte esatto per quanto possano essere credibili però io sono stato paragonato a Gavrilo Princip questa è l'intervista che scatenerà la terza guarda mondiale esatto però al di là di questo il Guardian disse agli italiani non è rimasto altro cioè l'identità italiana è in questo momento talmente labile talmente anche impalpabile che alla fine diceva il Guardian è rimasto il calcio e la cucina poi il Guardian diceva il calcio negli ultimi due mondiali l'Italia non si è neanche qualificata quindi proprio solo la cucina detta da un inglese che ha perso l'europeo in casa suona un po' pelosa però vabbè però la prendiamo per buona credo che al di là della questione sul calcio credo che sia vera cioè credo che davvero l'Italia sia in difficoltà identità ammesso che abbia mai avuto un'identità però comunque adesso è davvero in grande crisi e quindi la cucina le tradizioni vere o presunte l'altro tema per me è importante è lo stato d'assedio cioè abbiamo una politica che ci rappresenta come un paese dove nei confronti del quale il resto del mondo vorrebbe colonizzarci vorrebbe farci mangiare gli insetti la carne coltivata vorrebbe costringerci a comprare macchine elettriche cioè tutta questa idea qui per cui al resto del mondo interessa quello che fanno gli italiani medialmente al resto del mondo non ne frega niente quello che fanno gli italiani però è che poi se vogliono mangiarsi la matriciana che se la mangiano con un cortocircuito per cui secondo certa politica gli insetti minaccerebbero le nostre eccellenze se siamo così forti dei nostri piatti tipici perché dovremmo avere paura degli insetti questo è un argomento proprio illogico e dall'altro due miliardi e più di persone già li mangiano perché da noi non possono essere consumati da chi li vuole nessuno ti forza in tal senso questo fra l'altro è proprio un argomento illogico noi ci diciamo la nostra cucina è la migliore del mondo e tutti e in pratica dobbiamo proteggerla ma se la nostra cucina è davvero la migliore del mondo saranno gli altri che dovranno temere la concorrenza italiana i nostri prodotti sono i migliori e quindi dobbiamo difenderli no ma sono gli altri che dovranno difendersi dalla nostra minaccia e quindi c'è proprio uno scarto logico enorme che però secondo me è funzionale a un progetto un progetto politico mi sembra quasi di fargli un complimento insomma ha un disegno ha una ideologia nel quale la cucina è se non il pezzo più importante ma anzi mi vorrebbe da dire proprio il pezzo più importante possiamo dire che non c'era nessun complotto dietro quell'intervista perché ci fu chi scrisse un complotto del più importante giornale inglese per screditare l'Italia quella tua intervista di cinque pagine sì Baracni e B4 in cui tu dici che la cucina italiana è fatta di piatti buonissimi ma le cui origini non sono centenarie nella maggior parte dei casi ecco quella tua intervista era contenuta in un inserto di una cinquantina di pagine piena di lodi alla cucina italiana dove c'era anche la voce di un professore di storia del cibo di storia economica che non metteva in discussione la qualità ma insomma raccontava questo aspetto in Italia venne detto da molti giornali che c'era il complotto contro l'Italia e tu eri proprio l'uomo alla vana l'uomo alla vana ecco è davvero è incredibile la riete no ma è incredibile questa cosa qui perché quel magazine lì che è legato al Financial Times di quella settimana il titolo era Italian Food cioè era veramente 45 pagine di recensioni proprio un entusiasmo secondo me è anche abbastanza ingiustificato comunque erano solo lodi nei confronti della cucina italiana e poi in mezzo c'era questo professore che diceva tutto buono però 50 anni fa non era così allora abbiamo citato spesso le presunte origini centenarie io farei due riferimenti che noi tocchiamo nel nostro libro perché una parte del libro e questo è un elemento anche di novità è dedicata ai grandi della storia che non sono i grandi della cucina però cioè i grandi personaggi della storia a cui viene nella narrazione attribuita un importante viene attribuito un importante ruolo per quanto riguarda la cucina e invece non c'entrano niente parto dal primo che è Carlo Magno nei tre mesi in cui Carlo Magno venne in Italia per farsi incoronare imperatore nella notte di Natale dell'Ottocento dopo Cristo ecco in quei tre mesi sembra che Carlo Magno avesse come principale occupazione quella di essere un turista enogastronomico del nostro paese ti va di raccontare un po' cosa viene detto e com'è andata davvero allora noi conosciamo anche il suo percorso perché sappiamo che è entrato dalla Svizzera quella che oggi è la Svizzera all'epoca non lo era quindi dalla Lombardia del nord poi va a Milano arriva in Pianola Padana poi essendo tedesco va ovviamente sulla riviera Romagnola perché non può non andare anticipando il percorso di 1200 anni rispetto ai suoi concittadini di oggi e dopo fa tutta la costa adriatica riattraversa l'Italia più o meno all'altezza dell'Umbria e arriva poi a Roma e di questo viaggio qua sappiamo tutto ma soprattutto sappiamo quello che ha mangiato subito arriva il bitto un formaggio di cui sembra lui va da pazzo e fa scorte per tutto il viaggio ma sappiamo anche che qualche settimana dopo gli portano il Castelmagno che fra l'altro è piemontese che sta fuori dal suo percorso va bene ma c'è una rappresentazione così dei nobili dell'epoca che si mettono a fare 300 chilometri con le strade dell'epoca per far assaggiare il formaggio come se ci fossero le autostrade proloco molto attive e marketing territoriale antelittera ma non so come dire e ovviamente a quel punto lì quando lui scopre il Castelmagno del quale si invaghisce si innamora immediatamente non sappiamo che fine abbiano fatto le scotte di bitto ne aveva già mangiate in due settimane aveva fatto fuori il bitto e poi cosa arriva poi arriva c'è il salame il ciauscolo poi ci sono dei legumi c'è una focaccia c'è il cacciomagno c'è un altro formaggio il cacciomagno di cui impazzisce anche per questo a Rieti e la come si dice la forma li cambiano la forma perché era tondo ma siccome lui doveva farne scorta per portarsi a Roma i casari di Rieti li cambiano la forma glielo fanno quadrato così è più facile il trasporto ecco sono tutte balle no certo è tutta roba inventata negli ultimi dieci anni sono tutte balle che vengono raccontate anche il prosciutto toscano era impazziva per il prosciutto toscano non passa neanche però glielo fanno assaggiare e ci sono due cose che mi fanno molto sorridere una che quando poi torna in Germania pare che comunque in Germania lui non potesse fare a meno del gorgonzola che è l'ultimo innamoramento dell'imperatore dei formaggi ma racconta cosa come si vestì carlomagno nel momento dell'incoronazione lui i suoi biografi dicono che su ordine del papa abbia indossato la tunica romana perché appunto doveva prendere il titolo la corona di imperatore dei romani e quindi indossa questa e non indossa il suo abito quello dei franchi che era nei pantaloni e la camicia di lino appunto i suoi biografi ci dicono che è stato un ordine espresso del papa in realtà visto quello che aveva mangiato negli ultimi tre mesi non ci stava più dentro e quindi la tunica che era un po' più larga gli permetteva di indossarla più facilmente è una bugia pietosa rispetto alla sua condizione tra l'altro non sappiamo invece niente di quello che ha mangiato al ritorno perché ha bevuto solo delle tisane disintossicanti esatto esatto e invece per quanto riguarda Caterina De Medici perché tante delle specialità che noi mangiamo e che i francesi mangiano vengono attribuite a Caterina la dico ancora più chiara insomma sembra che Caterina De Medici abbia portato in Francia una sfilza di prodotti che prima i francesi non conoscevano noi ne abbiamo citati alcuni e diciamo che Caterina fece conoscere i francesi la besciamella la zuppa di cipolle l'anatra all'arancia l'omelette la crepi marron glacé la panna montata che poi dopo loro hanno un po' cambiato e chiamato crema chantilly la crema frangipane la crema pasticcera lo zabaione la pasta choux il sorbetto il gelato il macaroni e l'alquernes e ho risparmiato gli ortaggi che i francesi non conoscevano cosa mangiavano questi francesi? mangiavano i sassi prima dell'arrivo di Caterina dei Medici in Francia si succhiavano i sassi questa era la loro dieta e la cosa che raccontiamo però è che in realtà i documenti che ci parlano di Caterina ci dicono solo una cosa adesso cerchiamo di non fare body shaming ma l'unica cosa in realtà ce ne dicono due la prima nessun cuoco varcò le alpi insieme a Caterina dei Medici quindi o si è messa lei ai fornelli o comunque non c'era verso la Benedetta Rossi Anteliteram esatto e l'altra cosa che tendeva ad ingrassare esatto in Francia in Francia quindi vuol dire che la cucina locale piaceva cioè non c'era bisogno che portassero i prodotti dalla Toscana gli piacevano gli piaceva quello che piaceva non c'è nessun riferimento ad una nostalgia della cucina toscana non c'è nulla niente di tutto questo e allora come nasce la leggenda che in realtà è una leggenda nera di Caterina dei Medici perché qua l'invenzione non parte da noi ma parte dai francesi ma noi siamo stati bravissimi poi ad utilizzarla a nostro vantaggio allora il tema vero forte di tutta questa vicenda è che Caterina dei Medici è al centro del potere in Francia nel periodo più scuro della storia della Francia che è quella delle guerre di religione e quindi questo è un tema cioè la seconda metà del Cinquecento guerra tra ugonotti e cattolici insomma quindi con anche episodi drammatici come la notte di San Bartolomeo insomma stiamo veramente parlando di un periodo migliaia di ugonotti uccisi non sapevamo neanche quanti ecco in questa vicenda qui fondamentalmente quando poi la Francia si pacifica e torna ad essere cattolica è Enrico di Navarra Parigi vale bene una messa e quindi a quel punto in realtà non finisce del tutto però insomma finisce quasi la storia e allora bisogna ricostruire expost quel periodo così oscuro della storia di Francia dando la colpa da un lato ai Valois perché nel frattempo cambia anche la casa regnante dai Valois si passa ai Borbone e quindi dire è colpa di questi qua che erano degli incapaci dall'altro lato dare un po' la colpa anche a chi arrivava da fuori perché in questa ricostruzione di un periodo così difficile si dice ma per forza c'erano gli italiani a corte che ci facevano la politica ma soprattutto ci ottundevano i sensi con una cucina straordinaria però subdoli gli italiani ma insana perché gli italiani erano visti come subdoli assassini tendenzialmente traditori insomma c'era questo elemento e i complotti di palazzo c'erano e come e c'erano e come ma fra l'altro effettivamente a seguito di Caterina arrivano molti politici italiani non cuochi ma tutti gli altri che pensavano a tutto alle trame di palazzo ma non alla cucina e allora quello che abbiamo scritto nel libro è che probabilmente a un certo punto i francesi hanno detto passiamo per fessi passiamo per golosi ma non per fessi perché altrimenti spassa che la politica in Francia l'hanno dominata i francesi gli italiani il racconto che fanno i francesi è di una Caterina de' Medici che dedita questa cucina atta a distogliere l'attenzione addirittura appunto a ottundere i sensi e dunque è una connotazione negativa a questa cucina portata dagli italiani danno la colpa ai Valois e poi anche agli italiani che sono a corte in quel momento da lì si costruisce tutta una storia e si costruisce anche la storia della cucina francese dicendo queste cose ce le hanno portate gli italiani sono loro i primi ma a quel punto noi italiani non aspettavamo altro allora vi abbiamo portato tutto e da lì nasce tutta una ricostruzione leggendaria della cucina francese iniziando ad alzarti ti faccio un'ultima domanda alla quale mi rispondi in 15 secondi la cucina italiana esiste o non esiste? se la cucina italiana è quella appunto delle origini centenarie millenarie non esiste se invece la cucina italiana è questa una grande costruzione moderna in continua evoluzione veramente in continua evoluzione e anche vorticosa evoluzione per certi versi basti pensare alla pizza come sta cambiando ecco se pensiamo a questo si esiste però appunto dobbiamo essere consapevoli che diciamo che la cucina italiana non esiste così come ce la stiamo raccontando negli ultimi vent'anni almeno eh sì direi proprio così e qui lo spieghiamo molto bene ok è stato un piacere meglio che nel podcast sbagliamo facciamo errori facciamo l'attività è stato bravo grazie a tutti Grazie a tutti.